Buongiorno, buongiorno. Oggi è il 19 di novembre. Siamo sul Ponte Meier, in Tanaro. La situazione del fiume è quella che si vede. Un fiume ancora tranquillo, dentro la sua sede, dentro le sue sponde, qualche tronco che galleggia. Ma la situazione non ci sembra per niente preoccupante. Il fiume è limaccioso. Però, il contenuto, pericoli non ce ne sono. Ecco. Altro ponte. Quindi, da questo fiume nessun problema. In una giornata difficile e piovosa, come questa. Vediamo adesso... Il rombo del fiume è la forza del salto che deve fare. Eccolo qua. Il fiume è nella sua potenza. E' una massa d'acqua comunque importante, che però non destra preoccupazione. in questione. Ecco qua. Un saluto dal maestoso fiume Tanaro, dal ponte Meyer, arrivederci. Grazie.